Carmencita! Carmencita! Serata intimità, voilà! Buon buon buon! Uomini sexy! Tanti auguri a Carmencita! Tanti auguri a te! Non c'è niente di meglio del compleanno per sole donne! Beh, a parte Mickey, certo! Però non capisco i regali! Tu mi hai regalato il profumo passione bruciante! Tu le candele con essenze sexy! E tu il deumidificatore agli aromi erotici! Erotici! Volete dire che la mia vita manca di passione? No! Il radio ce ne metti tantissima, davvero! E chi è? Il mio regalo di compleanno! Si chiama Simone e fa striptease, altro che i profumini! Guarda che pettorali! Sembrano disegnati! Il suo slogan è sotto il vestito, tutto! Maggissimo! Bravo, chico! Oh, vola! Oh! E scusa, tiene qualcosa da bere? Sale la temperatura, ragazzi! Andole! Scusa, io sei studente! Non tengo dinero! Ci ho provato, ma tengo vergogna! Ho dei complessi! Oh, no! Il sex symbol complessato, no! Redammi i miei soldi! Che complessi hai? Parlarne fa bene! Davvero posso? Devi essere te stesso! Io trovo sexy un uomo che mette a nudo il suo cuore! Io lo trovo più sexy se metti a nudo qualcos'altro! Beh, ha tu ragioni da camionista! Non hai sensibilità femminile! Tanto tu ne hai per due, Mickey! Che succede? Ti ha messo le mani addosso? No! È un pazzo! Dice che mi ama! Oh, figuriamoci se qua entra un uomo che allunga le mani! Claudia è sfantastica! Io la chiedo sposare! E questa era la serata erotica! È inutile! Non ci sono più maschi sexy! Uno c'è! Sei adorabile! Carmencita è stata presentata da Lavazza! Ci vediamo venerdì prossimo! Oppure su www.carmensita.it